ciao horror italy e horror itale bentornati al nuovo appuntamento in compagnia del vostro rugoso zio ernio di lapide e del suo reche show in questo episodio parleremo delle novità di marzo della midnight factory anime factory e coke media e proprio da quest'ultima iniziamo a vedere di cosa tratterà questa puntata sì perché finalmente dopo tanto tempo arriva in versione blu ray red di trigve alister deason e lucky mcg una sorta di revenge movie interpretato dal bravissimo brian cox ma come il nostro solito fare andiamo con ordine e vediamo la trama il vecchio hevery un uomo schivo e solitario ha un solo amico unica sua ragione di vita il suo cane di nome red quando tre adolescenti problematici uccidono il cane senza alcuna buona ragione l'uomo userà qualsiasi mezzo a sua disposizione per ottenere giustizia e vendetta quello che la doppia regia mette in scena è un vero e proprio atto di vendetta da parte del nostro protagonista non tanto per il trauma che è costretto a subire per la perdita dell'ultimo bagliore di umanità che lo tiene legato alla propria esistenza ma vendetta verso una società in caduta libera verso il senso distorto di rassegnazione e distrazioni familiari red si maschera sapientemente da film di genere e attraverso la violenza grida in faccia allo spettatore il processo sociale che l'epoca moderna e modo quasi forzato è costretta a subire in modo quasi carpenteriano la pellicola si muove sotto classificazioni sociali che in un certo senso risultano essere tanto contemporanee quanto irritanti il senso di giustizia e rabbia si muovono in modo totalmente tridimensionale da uscire quasi dallo schermo il bravissimo biancox è un anti eroe atipico per il cinema fatto di muscoli e visi puliti e riesce sempre a sfondare la quarta parete pur non facendolo nel senso marcato del termine proprio direttamente ma offrendo allo spettatore una sorta di abbraccio comodo e quasi criminale i modi per ottenere una sorta di pace interiore grazie alla vendetta però non sono il vero senso del film anzi ci si trova davanti a elegantissimi dualismi interiori che metteranno il protagonista dentro un vortice di domande alla quale spesso non riesce a ottenere una risposta forse una risposta non c'è ed è forse questo il motivo che questo thriller del 2008 ci lascia con la mano in bocca allo scattare dei titoli di coda il puro senso di disagio attraversa il corpo dello spettatore e non si può che rimanerne incantati di certo un po tardivo come arrivo sui nostri scaffali ma come si sol dire meglio tardi che morti di casa midnight factory invece troviamo questo film del 2016 di charles torrens dal titolo pet quello che il film ci offre rientrano i puri canoni del trap movie ovvero quel tipo di genere dove i protagonisti si trovano bloccati o intrappolati ad affidare lo svolgersi delle vicende troviamo i sorprendenti dominic monoghan che in molti ricorderanno nel ruolo di meriodac brandybuck nella trilogia del signore degli anelli e l'incantevole attrice lettone naturalizzata canadese xenia solo la pellicola inizia come quasi un teen movie dalle tinte non troppo elaborate ma che invece nel corso della narrazione si addentra su contesti al basso con l'era del digitale corrente la forte e marcata pericolosità della rete e dei suoi sottosignificati portano alla deprimente figura di un uomo ossessionato dal senso persecutorio di una vecchia conoscenza la trama corre i seguenti binari set è un dipendente di un canile nella periferia di los angeles vive da solo in un piccolo appartamento e sembra preferire la compagnia degli animali a quella degli umani almeno finché non incontra la bella e bionda holly ex compagna di scuola questo incontro sarà l'inizio di un legame malsano e perverso dalle conseguenze inaspettate la pellicola non soffre il ritmo della velocità perché fin dalle battute iniziali l'andamento è ben calibrato alla sceneggiatura dominic monogan è dentro il personaggio in tutto e per tutto e si muove con grandissima disinvoltura dentro la pelle del suo set questo il nome in charl actor rendendolo proprio e creando quell'alchimica simbiosi con l'inquietante figura il modo o il suo modo in cui manifesta i sentimenti alla giovane ragazza risultano quasi profondi anche se i metodi non sono dei più funzionali creando a lavoro un netto squarcio dentro la stessa trama che a sua volta continua a creare vere e proprie strade burrascose a rendere queste vie così distorte entra in merito la bellissima xenia solo la sua holly è un vero e proprio mistero nel mistero se da una parte troviamo il dramma della violenza fisica e psicologica dall'altra troviamo una caratterizzazione del personaggio molto dark che a tratti riporta al classico thriller d'altri tempi la pellicola è come potrebbe sembrare in gran parte del suo cammino tutt'altro che anemica con all'occorrenza anche qualche dose di soft splatter gli effetti di make up aiutano e non poco e le crude sequenze di sangue sono un vero motore ai fini della trama portando questo pet su attimi di tensione davvero importanti come detto in precedenza il ritmo dell'opera è lento ma perfettamente a tema con il racconto e si prende le dovute tempistiche per addomesticare lo spettatore alla conoscenza dei personaggi che a proprio volta carburano come un diesel creando una progressiva impennata nella seconda parte di narrazione esplodendo sul finale in un vortice di pura violenza in sostanza pet è un marchio che non ha goduto tanto del valore che sicuramente avrebbe meritato e che invece ora grazie alla midnight factory può essere riscoperto e ad apprezzato anche grazie al suo ormai inconfondibile package cartonato che funziona da sovracopertina e arricchito al proprio interno da un booklet aggiornato di tantissime curiosità a cura di nocturno decisamente da avere così come da avere è anche il lavoro della anime factory dal titolo gans arriva infatti la versione definitiva di questa rivoluzionaria serie animata in questo splendido cofanetto il box include la serie completa di due stagioni arricchita da una quantità impressionante di extra ma anche in questa circostanza andiamo a presentare la trama che ericurono e masaru kato amici di infanzia muoiono insieme in un incidente una coppia dei loro corpi viene richiamata in un appartamento spoglio dove si trovano anche altre persone inspiegabilmente tornate dalla morte lì il gans una misteriosa sfera nera fornisce ad ognuno di loro una missione l'eliminazione di creature aliene alla fine di ogni missione i partecipanti ricevono un punteggio dalla sfera che darà poi un non precisato premio a chiunque riuscirà a raggiungere i cento punti ma cosa verrà realmente a colui o colei che raggiungerà tale punteggio l'anime tratto dal manga di hero yaoku è un vero e proprio delirio e gioca con stupende animazioni grafiche a tratti anche quasi 3d che per i cultori del genere risulta una ventata di aria fresca i personaggi sono caratterizzati modo esemplare e spesso ci si trova davanti al dover fronteggiare veri e propri rompicapo emotivi per captarne ogni sfumatura la violenza è un fattore aggiunto che riempie l'opera di quelle senso splatter tanto caro al movimento di casa nipponica di ultima generazione non serve ricordare capolavori come elfin light e tematiche che sfiorano quasi le patinature di neongenesis evangelion anche se di mecca nel senso più profondo in questo guns non c'è praticamente nulla quello che però fa grande quest'opera distribuita dalla yamato video e anime factory e la costanza con la quale la violenza è sottolineata le ambientazioni quasi dantesche a livello citazionistico sono di esemplare impatto visivo missioni sempre al limite dello sfrenato rappresentate dal nome che compone la serie appunto guns una sfera nera che ordina agli sfortunati traghettati nel limbo eterno dopo la morte una serie di gare da compiere per poter sopravvivere questo anime come spesso accade si scosta specialmente nella seconda metà o poco prima dal manga originale e vive quasi una vita al pari passo con lo stesso guns le venature alla gonagai sono molto pressanti e ci si trova davanti a mostri che sembrano usciti dall'universo amon sangue cervelli mandati in frantumi budella roventi creature al limite dell'assurdo e morbide nudità che sfidano ogni legge gravitazionale sono la base su cui questa serie prende una forma incredibile i protagonisti sono pochi escludendo le varie comparsate che in corso d'opera si vengono a manifestare e sono caratterizzate in modo davvero soddisfacente questo bellissimo box al proprio interno un booklet per serie che analizza episodio per episodio e su ogni dvd è presente una sessione extra davvero di lusso si parte dalle musiche originali interviste al regista ikido itano al doppiatore kei kurono conferenza tra i doppiatori dalla serie i segreti dei fondali 3d è una serie mostruosa per restare in tema di immagini dalla galleria fotografica insomma questo box è per veri amanti del mondo degli anime famelici di sangue caldo decisamente imperdibile e ultimo ma non di certo per importanza anzi ecco un altro mini box contenente due film targati midnight factory ecco antisocial 1 e antisocial 2 come ben vedrete la confezione speciale contiene sia il primo film che e il secondo un'opera visionaria che accarezza più generi horror e li fonde a proprio piacimento ecco la trama del film sam una studentessa universitaria prende una pausa di riflessione dalla sua relazione con dan e si cancella dal social network red room decide di ritornare a casa per passare il primo dell'anno da sola ma si ricorda dell'invito di un suo amico mark arrivata a casa sua partecipa alla festa organizzata da mark e i suoi amici jed steve e kathleen la festa procede tra divertimento ed alcol ma i ragazzi notano degli strani eventi in televisione tra cui suicidi e innumerevoli aggressioni verificatesi in tutto il pianeta questa invece la trama di antisocial 2 anni dopo il rapimento della sua neonata sam prova a cercarla anche sul sito web red room dopo aver fatto amicizia con una giovane ragazza di nome bin sam viene catturata e rinchiusa in una struttura dedicata alla ricerca per trovare una cura per il virus red room intrapolata e torturata sam prova a sfuggire dalla struttura prima che l'imminente aggiornamento sul sito red room colpisca tutti scatenando il suo attacco finale due film ben distinti che sono uno il perfetto proseguo del precedente se nel primo film troviamo una rincorsa sfrenata la sopravvivenza da un virus sperimentale nato da un'industria informatica con l'intento di lobotomizzare elementi dei propri visitatori prima su bassa scala poi su movimenti globali nel secondo capitolo troviamo un vero e proprio senso di slasher che per certi versi è una diretta conseguenza dei fatti che si sono creati il cofanetto esposto dalla midnight factory è secondo il nostro avviso un colpo davvero azzeccato sì perché soffermarsi sulle opere in maniera singola non rende quello che è il vero significato di questo antisocial il senso di connessione è la fondamentale che lega la doppia storia anche se sarebbe più corretto affermare che si tratta di un'unica lunga sessione di survivor horror che non si risparmia di scene cruenti il mondo di internet come non l'avete mai immaginato a meno che non abbiate visto l'anime serial experiment lane che fa della rete un potenziale ultra virus capace di distorcere la realtà ovviamente alcune scelte stilistiche lasciano il punto di domanda su alcuni passaggi su tutti il perché un virus diffuso su digitale possa passare nell'arco di pochi istanti a livello materiale ma forse è anche questo il fascino di antisocial di certo il titolo è molto curioso e pieno di colpi di scena che affonda le mani su di un sociale davvero preoccupante e purtroppo non estremamente fuori dalla realtà contemporanea la protagonista delle vicende e in entrambi i film michelle millet al suo esordio come protagonista una vera scoperta che focalizza l'attenzione del pubblico più sulla propria storia che quello del red room stesso questo è il curioso e citazionista a nome del virus scritto red room come stanza rossa ma che suona come il celebre inquietante motto di shining cronenberg vive su queste note e si palesa a più riprese anche se il regista cody callahan rende originali e propri gran parte dei passaggi narrativi portando la doppia opera ad altissimi livelli purtroppo in questa edizione non si ha una vasta gamma di contenuti extra anzi possiamo dire che sono presenti solo i trailer in compenso il booklet sempre interessante e sempre a cura di nocturno sono di piacevolissima lettura anche solo per scoprirne origini e curiosità ciò non fa di quest'opera un acquisto sprecato anzi la pellicola viaggia per la propria direzione e se siete amanti dei film con contaminazioni agghiaccianti sangue e pensieri complottisti beh questo antisocial fa decisamente al caso vostro opere del 2013 e del 2015 che finalmente godono di una definizione blu ray che merita senza ombra di dubbio l'acquisto anche questa edizione è consigliata personalmente dal vostro rugoso zio ernio di lapide horror idali e horror idale queste erano le novità di marzo firmate coq media anime factory e midnight factory acquisti da fare anche solo per le eleganti confezioni che gli amici delle case di distribuzione appena citate offrono ai maniaci del collezionismo ricordatevi di iscrivervi al canale e seguire il link dei prodotti nelle sporche viscere di descrizione qua sotto per ora è tutto buonanotte e lasciatevi terrororizzare grazie Grazie a tutti